Ave papolo di youtube, io sono Tearless Raptor e vi do il benvenuto in questo primo video del 2019 2019 in cui tra i vari progetti che ho intenzione di portare avanti c'è anche quello di viaggiare ed esplorare di più il mondo perché sebbene siano ormai 5 anni che abito all'estero, di fatto non ho mai propriamente viaggiato non sono mai andato anche per soltanto 2-3 giorni a visitare, che ne so, una nuova città, una nuova nazione e ovviamente paese che vai, lingua che trovi, al mondo ce ne sono davvero centinaia e nonostante io ne conosca soltanto 3, italiano, tedesco e inglese, ho deciso quest'oggi di mettere alla prova le mie conoscenze linguistiche andando a fare questo quiz che mi è stato consigliato da voi tramite i commenti all'interno del quale dovremo cercare di indovinare la lingua che sentiremo venir parlata come potete vedere ci sono 4 livelli di difficoltà, principiante, facile, medio e difficile partiamo a livello facile e al massimo poi facciamo un tentativo a livello difficile direi quindi che possiamo anche cominciare questo quiz e la prima clip audio sarà o in greco o in thailandese o in coreano sono tre lingue molto diverse l'una dall'altra il greco bene o male lo riconosco perché ho fatto dei corsi di greco moderno e sebbene non conosca né il coreano né il thailandese dovrebbero avere due suoni completamente diversi e molto distinti il coreano è più rigido mentre il thailandese è più nasale se non sbaglio però ora sentiamo e vediamo se iniziamo a riconoscere per l'appunto è più nasale quindi dovrebbe essere thailandese è infatti thailandese muy bien muy bien secondo il clip audio cinese italiano o polacco? italiano lo stiamo parlando quindi non dovrebbe essere un problema di conoscerlo il polacco e il cinese sono due lingue completamente diverse quindi anche qui dovrebbe essere facile il vostro rapporto si intitola bambini in movimento bambini lasciati indietro ecco perché bambini in movimento mi sono perso ad ascoltare quello che stava dicendo la tizia scusatemi è palesemente italiano questo ok domanda numero 3 greco thailandese e norvegese cioè mi avete tolto il coreano dall'opzione di prima vabbè facciamola partire siamo di nuovo in thai cinese tedesco inglese parlo due di queste tre lingue e infatti qua è inglese senza ombra di dubbio clip audio numero 5 che potrebbe essere un francese o arabo o cinese proviamo anche qui dovrebbe essere molto facile da riconoscere e questo qua è cinese tutta la vita non ci perdo neanche il tempo ad ascoltarla uh sono aumentate le opzioni nice abbiamo turco russo olandese tedesco e qua come sempre tedesco olandese essendo due lingue che si assomigliano potrebbero fregarmi ma conoscendo il tedesco non dovrei avere problemi di questo tipo ecco appunto allora mi sembra tantissimo olandese perché non ho riconosciuto nessuna parola a meno che non sia un accento super chiuso super strano della Germania ma dubito infatti è rolandese qua abbiamo quattro lingue completamente diverse l'una dall'altro greco, indi, svedese e arabo ah questo è greco questo è greco tutta la vita mi piacerebbe saperlo il greco è una lingua che viene parlata in una nazione piccolissima però è una di quelle lingue che mi ispirano un sacco ho studiato greco antico alle superiori avendo fatto il classico e ho fatto anche un corso di greco moderno che però ha durato tipo due settimane non ricordo niente spagnolo, cinese, suaili e arabo vediamo tra queste quattro anche qui molto differenti l'una dall'altra e questo qua è swahili anche se non ho mai sentito parlare nessuno swahili però di certo non è spagnolo di certo non è cinese di certo non è arabo quindi per forza se non è zuppa è bambagnato qua abbiamo quattro lingue facilmente riconoscibili russo, inglese, tedesco e francese quindi questo qua è inglese ovviamente e facciamo la numero 10 direi anche l'ultima perché effettivamente è un po' troppo facile il livello facile o meglio la difficoltà facile d'altronde si chiama facile per un motivo abbiamo polacco, finlandese, danese e spagnolo finlandese e danese potrebbe portarmi problemi direi finlandese perché comunque ha delle radici il ceppo linguistico da cui proviene è completamente diverso da tutte le altre e non mi sembra né danese né svedese né polacco scusate e infatti era finlandese perfetto cambiamo difficoltà please direi di saltare la difficoltà media e di passare direttamente alla difficoltà difficile ci sono 92 lingue diverse pertanto suppongo che ci siano anche lingue molto complicate e sconosciute perciò sarà interessante cominciamo e vediamo la prima è faroese quindi suppongo la lingua dell'isola è faroer la seconda è bengalese pertanto una lingua che viene parlata tra il Bangladesh e l'India se non ricordo male e infine c'è il mandarino il cinese mandarino essere precisi sebbene non conosca nessuna di queste lingue dovrebbero essere diverse sentiamo ha un qualcosa che mi ricorda le lingue nordiche quindi norvegese danese svedese potenzialmente anche islandese quindi direi di buttarmi sulla lingua dell'isola faroer e infatti era corretto molto bene creep audio numero 2 estone cieco oppure olandese l'estone dovrebbe essere molto simile al russo il cieco non l'ho mai sentito però ci si può arrivare a orecchio soprattutto perché sarà completamente diverso dal dutch però potrebbe assomirare all'estone ascoltiamo sentiamo cazzo guardate a far fatica non credo sia olandese ma non credo sia neanche il cieco ma magari mi sbaglio quindi andrei su estone che culo clip audio numero 3 e qua ci sono due lingue che non ho neanche mai sentito nominare o meglio khmer si l'ho sentita nominare ma non l'ho mai sentita parlare mentre la prima non so nemmeno come si pronunci e non so cosa sia però se non ricordo male la lingua khmer viene da per domanda è da qualche parte in asia ma non ne sono sicuro al 100% ascoltiamo il macedole dovrebbe essere il più riconoscibile tra queste tre se proprio non riesco ad associarla a nulla vado a cliccare sulla prima opzione che non so neanche come si pronuncia vediamo secondo me è la prima opzione io provo a cliccarci su magari mi sbaglio ok era sembrava una lingua proveniente dall'Africa tipo dal sud dell'Africa fatemi controllare Sudafrica è l'esoto scusate scusatemi arca puttana nice che cos'è la prima lingua? Amharic non so cosa sia però anche qui abbiamo francese e tedesco francese e tedesco le so di conoscere se non è nessuna delle due è sicuramente la prima che non so da dove venga che lingua strana sicuramente è questa però devo capire cos'è Amharic fatemi controllare ora sono curiosissimo l'Amarico è la lingua ufficiale dell'Etiopia oh oh interessante ha finita con l'Aramaico l'Ebraico l'Arabo il Maltese è ok avevo sentito un qualcosa di relativamente simile all'Arabo però non volevo dirlo perché non volevo dire stronzate clip numero 5 Mongolo Canada e Malayalam oddio ma è palindroma si è palindroma che figata Mongolia Malesia non lo so non è il Canada credo oddio magari può anche esserlo qua sono fottuto perché non saprei dirvi quale potrebbe essere la differenza tra il mongolo e il malese malese ascoltiamo e speriamo di capirci qualcosa allora se questa fosse la lingua della Mongolia secondo me sarebbe più simile al cinese magari mi sbaglio tantissimo però l'associerei a un suono più simile a quella lingua lì potrebbe essere malese potrebbe essere malese io ci tento yes yes che culo fatemi provare Cannada fatemi cercare Cannada più che altro perché ora sono raga devo guardarle queste cose mi dà fastidio se c'è un qualcosa che non so io devo per forza googlarlo perché altrimenti non mi sento contento poi magari me lo dimentico dopo dieci minuti però almeno devo cercarlo e la lingua Cannada è una lingua che si parla nel sud dello stato di Karnataka o Karnataka in India quindi molto molto ristretta molto poco diffusa come lingua clip numero 6 Farsi dovrebbe essere la lingua che si parla in Iran quindi il persiano tra molti virgolette di nuovo la lingua delle faroer Minankabau che non so da dove venga proprio mai nella vita e infine di nuovo questa lingua qua che già ho dimenticato da dove venisse mi sembra fosse quella sudafrica all'esoto quindi andiamo ascoltiamo secondo me è farsi potremmo essere per l'appunto lì in Iran oh no era Minankabau cosa è Minankabau viene dall'Indonesia e la Malesia non l'avrei mai e poi mai detto ed è il primo errore abbiamo sbagliato per la settima clip abbiamo di nuovo il Malayalam il Balinese che se non sbaglio è la lingua dell'Indonesia il Portoghese e infine l'Esperanto non pensavo avessero l'Esperanto qualora non conosceste l'Esperanto si tratta di una lingua artificiale creata proprio ad hoc da una persona che va a mettere insieme molti idiomi e molti aspetti della grammatica di varie lingue del mondo in modo tale da creare un linguaggio mondiale che possa essere parlato facilmente da tutti è una cosa un sacco interessante l'Esperanto però non lo saprei riconoscere mai nella vita clicchiamo play nella speranza che sia portoghese che culo neanche farlo apposta e qua arrivano i problemi e anche parecchio grossi perché abbiamo l'Uzbeco l'Armeno il Tamil che se non ricordo male è la lingua che si parla in Sri Lanka e infine l'Arabo non ho mai sentito né l'Uzbeco né l'Armeno ma potrebbero essere molto simili considerato che la zona geografica è più o meno quella però potrebbe essere Arabo potrebbe anche aver avuto delle influenze sull'Uzbeco e sull'Armeno io vado su Arabo e infatti era Uzbeco cazzo e potevo riconoscerlo effettivamente l'Arabo o meglio potevo riconoscerlo tal punto da rendermi conto che questo non era Arabo bensì Uzbeco abbiamo fatto due errori e non so come funzioni non so se ci sia un numero limitato di domande oppure se io abbia un tot numero di vite in quel caso suppongo siano tre quindi non possiamo più permetterci degli errori altrimenti è finita per noi qua cosa abbiamo russo francese di nuovo il malayalam e infine anche l'ebraico quattro lingue completamente diverse provenienti da quattro parti del mondo completamente diverse dovrebbe essere abbastanza riconoscibile speriamo e qua siamo di nuovo col malayalam vero si è la seconda volta in nove domande nice domanda numero 10 abbiamo questa lingua che si chiama frisian sbaglio la frisia è tipo una regione dell'Olanda boh non lo so lo scopriamo presto il tedesco il bengalese e il creolo di Haiti sinceramente non ho la più pallida di idea di che suono potrebbe avere questa lingua qua se effettivamente la frisia come ricordo è una regione olandese dovrebbe avere un suono simile all'olandese e il tedesco ma il tedesco lo so riconoscere il bengalese è una cosa completamente diversa questo tedesco questo è senza dubbio di cosa sta parlando questa persona sono curioso non lo so più parlare perfetto comunque tedesco ciao pinta vuoi partecipare con me facciamo questo livello insieme ok lo prendo come un no ciao gatto sei bella di nuovo il mongolo bulgaro lussemburghese e yue che è un dialetto cinese ok è molto simile a quello che potrebbe essere un tedesco o un olandese quindi qua siamo in lussemburgo aspetta quindi il malayalam non è il malese questo qua è il malese effettivamente oh temalese francese hujarati e marati le prime due non so da dove vengano e potrebbero essere molto simili qua devo sperare che sia francese altrimenti non riconosco un cacchio perfetto siamo fottuti non riesco a ricondurlo a nulla mi butto a caso su una delle due andiamo sulla seconda che culo che culo non ho parole quella che abbiamo appena cliccato quindi il hujarati credo hujarati è una delle lingue nazionali dell'india mentre il marati ora lo cerchiamo da dove viene è un'altra lingua dell'india quindi proprio vendata di straculo che ho indovinato perché potrebbe essere l'una o l'altra che botta di culo che botta di culo davvero facciamone altri due e vediamo cosa succede uh qua abbiamo addirittura cinque opzioni diverse abbiamo il nepalese il mongolo e qua sarà un casino il lao che suppongo sia la lingua del laos di nuovo la lingua di haiti e infine il catalano vi prego datemi il catalano che è praticamente veneto di certo non è catalano non penso sia la lingua di haiti nepalese o mongolo mongolo cazzo la nepalese fanculo e nulla rip rip è finita così è stato interessante molto istruttivo abbiamo conosciuto cose nuove che probabilmente ripeto avrò dimenticato già ora di stasera se il video vi è piaciuto d'invito a lasciare un bel like a passare in descrizione a tutti quanti i miei social network e dal mio canale twitch dove sarò in live a partire dalle ore 8 e noi ci vediamo un singhiozzo addio bye bye ciao